Il Segreto d'Italia è un film del 2014 diretto da Antonello Bellucco con protagonisti Romina Power che torna così al cinema dopo molti anni e Gloria Rizzato. Sarà proiettato domani al cinema dei Fabri dove resterà fino a mercoledì. Fra gli interpreti anche un dodicenne di origine triestina Pietro Maria Zanardo che ha ottenuto il ruolo preparando il fratello più piccolo al provino. Il mio fratello però non ci riusciva comunque non ci riusciva perché era più forte e lui non ci riusciva. Allora mia mamma mi ha chiesto se volevo provare e Antonello ha detto se volevo anch'io provare. Allora ho detto sì sì voglio provare e ho preso la parte. Mi è piaciuto tantissimo recitare in questo ruolo e poi era anche il fratello della protagonista quindi per dire ero emozionato e cioè è stato bellissimo quando ho incominciato a vedere le videocamere e ho iniziato a fare la parte. Stavo per commuovermi. Il film è basato sui tragici eventi realmente accaduti nel paese di Codevigo fra la fine di aprile 1945 e l'inizio di maggio quando i partigiani garibaldini della brigata Mario Gordini uccisero nel paese oltre un centinaio di persone fra abitanti del posto e prigionieri provenienti dalle aree appena liberate del Veneto e da Ravenna. Il film è costato oltre tre anni di lavorazione e non ha ricevuto aiuti da parte dello Stato. L'unico contributo pubblico è giunto dalla regione Veneto. Secondo quanto dichiarato dal regista vi sono state pressioni perché il progetto non si realizzasse.